E' buona Buona Tutta Allora scusatemi la voce bassa Nostre ragazze sono in questo bar Che siamo a Eutopia a Milano Un po' fighettino così Si fanno la colazione con Edo Eccolo qua Allora gli hanno comprato la sua prima biciclettina Ma secondo voi è come la bicicletta che abbiamo noi da piccoli Un po' scassato No assolutamente no Adesso ve la facciamo vedere E non è questa qua Questa qua è un triciclo un po' così Cioè guardate che razza di bicicletta radical chic Che hanno comprato a Edoardo Bellissima Anzi sicuramente gliel'hanno regalata Questa sarà in ADV Bamwood Però veramente la voglio anche io Cavolo Invece questa è Gabriella che tenta di dormire E viene sempre un po' importunata O da Richie di Caoletti O da Francesca a scelta Ecco qua bellissimo ritratto delle sorelle con Edoardo Finale Ciao